Sabato 23 febbraio si vota per dare voce ai quartieri di Ancona attraverso i cosiddetti Consigli Territoriali di Partecipazione, che avranno funzioni di ascolto e di ponte fra i cittadini e l'amministrazione. I consiglieri eletti porteranno le stanze e le proposte dei quartieri fin dentro al governo della città, attuando una vera partecipazione democratica. Si potrà votare dalle 9 alle 20 in 11 locali dove saranno accorpate diverse sezioni elettorali. Controllate sul sito www.comune.ancona.gov.it dove si trova la vostra sezione. Ricordate che possono votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali e tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni al momento delle elezioni. Si possono esprimere due preferenze, un uomo e una donna. Se avete dubbi o domande visitate il sito o chiamate l'URP. Sabato 23 febbraio vai a votare per dare voce al tuo territorio.